L'Invicta lotta con grande cuore a Sant'Agata e porta a casa una vittoria importantissima in ottica play-off, imponentosi con il risultato di 60-72. I padroni di casa partono forte in attacco, imbavagliando le guardie nissene al tiro e bloccando il contropiede ospite. L'Invicta, mai stata sotto nelle prime gare di campionato, dimostra tutta la sua maturità e non subisce la botta e grazie ad una rotazione più ampia comincia ad alzare l'intensità difensiva. Terzo quarto molto in equilibrio con cambi tattici da entrambe le parti e la partita resta tirata con le squadre che si caricano di falli. Nel finale la squadra di coach Spena sale in gattedra e con una serie di tiri allunga sui padroni di casa e controlla la gara fino alla fine senza soffrire. Per la formazione nissena si tratta della quarta vittoria consecutiva che consolida il primato davanti a Capodorlanto, ostico avversario che l'Invicta affronterà domenica 4 dicembre giocandosi il primato. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.